La banda ultralarga in arrivo in tutta la Toscana. Sono 73 i comuni chiamati a firmare nelle prossime settimane una convenzione con la Regione, il Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel, società del Ministero per far arrivare la fibra ottica e la banda ultralarga nei loro territori. L'accordo che è stato illustrato oggi a Firenze riguarda le cosiddette zone bianche a fallimento di mercato dove internet superveloce non potrebbe mai arrivare contando solo sull'iniziativa imprenditoriale privata. La Toscana è oggetto del primo bando di gara che si è concluso con il lotto toscana che è stato assegnato per cui entriamo in una fase operativa, una fase operativa in cui dovremo andare a costruire la rete che ricordo rimarrà di proprietà pubblica. In questa fase l'apporto dei comuni, degli enti locali in generale sarà molto importante perché è una fase in cui dovremo prima di far partire i cantieri lasciare tutti i permessi. Allora noi quello che vogliamo proporre è una convenzione che è prevista nell'accordo quadro tra il Ministero e la Regione Toscana affinché i comuni si prestino ad accelerare le fasi burocratiche di rilascio dei permessi in modo tale che la posa della fibra inizi quanto prima e quindi i cittadini possono avere a disposizione connessioni in bando ultralarga e oggi sappiamo l'importanza che la connettività riveste per il Paese, per creare opportunità alle imprese, lavoro, questa è l'infrastruttura di questo secolo e quindi noi cerchiamo di correre veloci per consentire i cittadini di avere questa connettività. La Toscana da anni è in prima linea per abbattere il Digital Divide insieme al Ministero dello Sviluppo Economico ha investito 72 milioni di euro per portare internet anche nelle zone più remote del territorio. Ora per completare entro il 2020 la copertura della banda ultralarga in tutte le aree a fallimento di mercato saranno stanziati altri 228 milioni di euro, metà risorse regionali e metà del Ministero che ha già fatto partire la gara di affidamento dei lavori del primo lotto. Noi siamo stati i primi a partire perché già 11 comuni hanno gli interventi sulla banda ultralarga come anticipazione del finanziamento e abbiamo voluto fare proprio per non fermare le macchine tra gli ultimi interventi di banda larga e questi primi di ultralarga. Ora dopo l'attesa per l'affidamento della gara nazionale che credo si dovrebbe ratificare nelle prossime ore, chiamiamo i primi 70 sindaci per il primo lotto di 230 milioni di interventi che sono finanziati dalla regione e dal Ministero. Ora bisogna correre perché arrivare un anno prima o un anno dopo rispetto non al finanziamento ma all'opera realizzata significa per le nostre aziende sia quelle in zone più industriali ma anche quelle in zone più rurali la possibilità di avere o no un vantaggio competitivo rispetto a quelle delle altre regioni. Grazie. 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 Grazie.